Buonasera a tutti, sono Silvia Borini, sono il produttore di artibità culturali di Caposcari e vi do il benvenuto a questo bellissimo incontro di stasera, siamo davvero onorati di ospitare un così grande fotografo e naturalmente vi saluto anche a nome del nostro autore, del professor Carrano e prima di tutto voglio ringraziare la professione di Venezia, è il secondo appuntamento di questo genere che abbiamo organizzato qui all'auditorio, è stato vostro ospite Elio Teravit qualche tempo fa e sono molto felici di riproporre un grandissimo fotografo del nostro tempo, quindi grazie alla popolazione di Venezia che collabora con Caposcari e a molti dei nostri eventi culturali grazie all'amico Fabio Achilli che dovrebbe essere qua con noi ma è come se ci fosse e due parole per dire quanto sia importante per Caposcari e per le nostre attività culturali la presenza di Sebastiao Salgado oggi a Caposcari. La nostra università è molto interessata alle contaminazioni e anche alle produzioni culturali che siano interdisciplinari, sicuramente la fotografia è uno dei linguaggi più interdisciplinari che ci sono, fotografi del calibro del maestro Salgado sono proprio gli occhi del nostro tempo e io mi permetto di lanciare una mia idea, io sono una slavista e quando vedo le foto di Salgado che considero dei grandissimi capolavori mi ricorda sempre Tal Stoghi questa grande perfezione formale che però è piena di un contenuto quasi morale ci sappiamo quasi paura di usare questa parola ma questo impegno anche nel farci vedere qualcosa che forse non scorgeremo, sono delle foto che hanno sempre significato simbolico e simboli universali per tutto, sono qualcosa di epico è come quello che dicevo, questi grandi romanzi anche dell'Ottocento che erano così meravigliosamente perfetti ma anche ricchi di contenuto davanti alle sue foto è questa percezione di essere di fronte a qualcosa di sempre molto significativo al di là di questa perfezione formale che tutti conosciamo, sono un po' e non si possono confondere quindi sono veramente contenta che anche i nostri studenti incontranno a vedere questa bellissima mostra che si apre e vedevano queste voci e che ringrazio anche per la collaborazione che continuiamo ad avere c'è un'ultima cosa che vorrei dire che mi piace particolarmente ricordare Genesi è un progetto anche legato all'interesse che Salgado ha per l'ambiente noi siamo il primo Antonio Green d'Italia, secondo Green Metric e abbiamo anche una carta proprio di sostenibilità, di impegni di sostenibilità quindi credo che proprio le due armi di Caffosca e quella artistica anche quella sostenibili si incontrano in una serata che sarà indimenticabile allora ringrazio ancora tantissimo Salgado di essere qui tra noi ringrazio voi che siete qui ad ascoltarlo e voglio dare la parola per ringraziare Denis Scurti che è il direttore tantissime cose ma mi ha detto di dire solo che è dire che solo nel senso tra le mille importanti cariche che ricopre fanno il direttore artistico della Casa dei Treonci quindi tolto la parola a Denis Scurti e ringrazio ancora tutti Buonasera Buonasera anche per me, con l'obbligo dei ringraziamenti siamo davvero contenti e orgogliosi di essere qui in questa sede prestigiosa e di avere una collaborazione con l'Università quando la Fondazione di Venezia ha riaperto perché si tratta di una riapertura della Casa dei Treonci il rapporto con il territorio, con i veneziani, con le istituzioni per noi è sempre stato importante e credo che appunto questa iniziativa lo possa assolutamente confermare replichiamo l'incontro appunto dopo questo incontro meraviglioso con Leglio Termit Sebastiao Sergano e vorrei considerare questa una vera anteprima della nostra Genesi che si aprirà dal primo febbraio questo lo dico, scusate, però anche delle informazioni molto tecniche perché venerdì c'è un'elaborazione e come sempre le inaugurazioni sono sempre molto complicate la Casa dei Treonci non può ospitare moltissime persone contemporaneamente quindi il 31 è una serata diciamo per la stampa inviti ma dal primo di febbraio la Casa dei Treonci apre la mostra al pubblico e proprio la Fondazione di Venezia mi chiedeva di ricordare anche perché sono nella presenza di moltissimi giovani insomma anche qua abbiamo fatto uno sforzo spero che lo possiate apprezzare che chi è in possesso della carta di giovani a teatro potrà visitare la mostra con 2,50 euro quindi un invito davvero a tutti i giovani a venire a visitare la mostra che appunto si apre il primo febbraio e a tra l'avanti fino agli 11 di maggio quindi parecchi giorni la mostra è una mostra veramente mascodontica io voglio ringraziare subito Lelia Sergato che ha curato la mostra e che ha accompagnato Sebastiao in tutti questi anni di produzione una mostra complessa che ha trasformato anche i Treonci per chi conosce la Casa dei Treonci la verrà completamente ribaltata colorata proprio perché Lelia e Sebastiao hanno voluto diciamo punteggiare il percorso della mostra che sostanzialmente è suddivisa in 5 sezioni con dei colori come diceva la professoressa Sintegolini è una mostra che ha a che fare soprattutto con il tema dell'ambiente con la salvaguardia dell'ambiente ma è una mostra che fuori poi anche molte domande molte questioni la prima che Sebastiao pone è proprio sullo stile di vita come è possibile trovare un equilibrio come è possibile cambiare lo stile di vita questi saranno alcuni degli argomenti che Sebastiao affronterà durante questa presentazione e quindi ritrovare questa forma di rispetto per l'ambiente per arrivare poi a trovare un'idea di armonia Sebastiao ha viaggiato 9 anni credo quando ha cominciato, quando ho 8 mi suggerito 8 quando ha cominciato questo progetto e ha dato la ricerca di tutti quei luoghi che possono essere come definiti incontaminati quindi c'è stato un lavoro di ricerca enorme per individuare questi luoghi che sono poi la foresta dell'Amazonia Congo, Indonesia, Nuova Guinea i ghiacciai dell'Antarca, dell'Alaska i deserti dell'America e dell'Africa il Cile e la Siberia sostanzialmente appunto i 5 continenti alla ricerca di quella che può essere considerata quella vita naturale appunto ambientata da qua le 5 sezioni della mostra che sono pianeta sud i santuari della natura l'Africa, il grande nord l'Amazonia ecco tutti questi sono poi facilmente individuabili perché appunto abbiamo proposto un allestimento molto chiaro appunto contraddistinto dai colori io sono sicuro che siete desiderosi di ascoltare direttamente il racconto di Sergato l'incontro avverrà, diciamo, Sebastiao preferisce parlare in francese e grazie alla disponibilità di Orberto Koch grande amico di Sebastiao Sergato ma presidente della fondazione Forme di Contrasto che ha prodotto la mostra e che ha editato anche il secondo libro c'è un catalogo generale che si intitola Genesis e di Tutatash e poi c'è questo altro libro Da la mia terra alla terra dove Sebastiao appunto ripercorre con le parole e tutto questo viaggio quindi diciamo grazie alla rispondibilità di Orberto faremo una traduzione quasi in simultanea del racconto di Sebastiao Sebastiao? Grazie a tutti Buonasera scusatemi perché non è possibile parlare in italiano quindi ho obbligato a parlare in italiano e non parlare in italiano grazie Allora io volevo chiederti appunto di tracciare anche molto brevemente come introduzione come appunto come è nato questo lavoro tu avrei da un'esperienza di reportage che si è sempre molto concentrata sulla figura umana e qui come dire un cambio di orta molto forte si è dato alla ricerca dei luoghi incontaminati e ha dato vita a questo progetto che si può forse sintetizzare come il terzo grande appuntamento di una enorme e importantissima trilogia come il terzo grande appuntamento come il terzo grande appuntamento un fotografo militante un fotografo economista un fotografo andropologista ma non c'è il niente di tutto questo e non c'è il terzo grande appuntamento che mi ha fatto che mi ha interessato a fare e alla fine tutti gli anni che ho provato come fotografo sono le cose di ma vita tutte le cose che gli ho c'era una ideologia tutte le cose che ho amato tutte le cose che ho fotografato perché ho fatto un'abbate a fare di fare, ma ho avuto in modo che gli organi di tutta la vita di fotografia liate a tutti gli occhi. Molte volte mi hanno detto che mi hanno chiamato un reporter-fotografo, un fotografo militante, un fotografo economista, un fotografo antropologista, un antropologo, ma non si tratta di niente di tutto ciò, tutto quello che io ho fotografato in tutta la mia vita in realtà è sempre stato quello che mi ha interessato più di tutto e soprattutto sono contento e ho il piacere di aver potuto fotografare tutto quello che mi interessa e che ha accompagnato tutta la mia vita perché di fatto ho fatto sempre fotografie di cose che riguardano la vita e di quello che mi interessa. come genesis non può essere molto differente da altri, abbiamo fatto una exposizione in Italia in un anno 2000 di un progetto che si chiamato l'Itamino. C'è un'istoria che mi ha fatto sui movimenti di popolazione dell'argomento. Grazie. Grazie. La prima 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 di che avevo presentato un altro lavoro qui si chiamato la manna dell'argomento e che sono stato già un po' di lavoro completamente liato a un progetto che mi ha fatto dei Grazie a tutti. 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 milioni di persone ogni anno si sono spostate dalla campagna alla città. Quindi questo ha portato a farmi capire come dopo la mano dell'uomo sarebbe stato importante avviare un altro progetto a cui ho dato il titolo di In Camino, che mi ha portato a lavorare per sette anni di riprese fotografiche in tutto il mondo, per cui l'elemento principale era il grande abbandono della campagna verso la città da parte delle popolazioni di tutto il mondo. In Italia voi sapete da sempre che l'Italia è un paese di transito in cui gli immigrati arrivano, si dirigono altrove, tutt'ora è così, ma questo è veramente niente rispetto alle dimensioni che avvengono in altri paesi del mondo. E quindi facendo questo lavoro in Camino ho fotografato anche nove grandi città che sono passate in meno di 15 anni da una popolazione di 2-3 milioni di persone ad almeno 15 milioni di persone, in alcuni casi anche di più, e ho fotografato ovviamente tutti i movimenti di popolazione dovute a cause forzate per guerra e altri motivi, profughi e altre situazioni di grande sofferenza, ma ho obbligati appunto a uno spostamento e quindi a portare a diversi tipi di migrazioni che hanno obbligato e quindi in facendo queste foto, ho realizzato dei reportaggi che mi hanno marco enormi in un da un ex-Goslavi, a un voisin qui, non c'è? E la brutalità che vive in un ex-Goslavi è qualcosa di fantastica. E sai che è enorme, sai che è un paese europeo, un paese anche il proprio più che vuole, le italiani, non c'è? Le niveau culturale dell'ex-Goslavi è fantastica, non c'è la costruzione di questi paesi, un paese riche, un paese in un paese di livello, un paese di livello, un paese in un paese di livello, incroyable e in un tempo, c'è più resistente in un'imagine che è stata in un'imagine in un'imagine che è passi in un paese in un paese in un paese quando incontrato al stato di lavorare in un paese in un paese in un paese artingo in un paese di ci sono Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. di questi riportaggi in particolare che mi hanno colpito enormemente. Il primo è tutto il lavoro che ho fatto nei territori dell'ex di Yugoslavia, che conoscete bene, che è vicino all'Italia, un paese che in quel momento era un paese in condizioni di vita piuttosto benestanti, ricco, un paese completamente dentro l'Europa e ho assistito a delle situazioni di violenza e di brutalità veramente terribili. Per me era una violenza inimmaginabile ed era soprattutto terribile assistere a tutto ciò in un territorio completamente europeo in cui la guerra scatenava degli istinti e delle situazioni brutali. La seconda situazione di estrema sofferenza a cui ho assistito come fotografo, che ho documentato, è stata quella della Rwanda, del Congo, del Burundi, della Tanzania, quando sono successi quei genoscidi terribili nel periodo della strage tra Tuzzi e Hutu in Rwanda. Per me questa sofferenza ho cominciato a viverla nel mio proprio corpo e assistevo a delle scene di brutalità incredibili. Solo per darvi un esempio, in un campo profughi in cui stavo fotografando, i giorni c'erano tra i 12 e i 15 mila morti ogni giorno, che venivano seppelliti in condizioni di estrema difficoltà e quindi utilizzando delle macchine come i bulldozer che aggiungevano brutalità alla brutalità, perché questi bulldozer sollevavano centinaia e decine di cadaveri per riportarli qua nel terreno e rivolgersi nella terra. Quindi ho assistito appunto a queste situazioni così terribilmente violente, terribilmente disumane, il mio corpo ha cominciato a soffrire, questa sofferenza mi ha preso proprio completamente, stavo male, ho cominciato a perdere tutte le difese immunitarie, avevo infezioni, malattie, costantemente avevo anche dei problemi di sofferenza fisica a causa della sofferenza psicologica che stavo vivendo. Ero quasi arrivato a una decisione di abbandonare la fotografia, perché era a causa della fotografia che avevo vissuto tutta questa sofferenza. Quindi dopo la correpresentazione della mostra con lei abbiamo deciso di tornare in Brasile e lì ho iniziato una nuova avventura quasi da agricoltore, occupandomi in una fattoria che era una fattoria che la mia famiglia aveva sempre avuto e che io ero cresciuto da ragazzino. E' cominciato quindi una nuova avventura che è stato poi il motivo per cui mi ha dato il via per me a Genesi. E' cominciato. 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 Inizia. Inizia. ого Andi. e c'è a partir de là qu'on a conçu un progetto un progetto molto migliore alla natura un progetto e cercare di mostrare in foto dei grandi piacere visuelli e dei grandi piacere che vivere e vedere questa natura c'è da lì che abbiamo conçu questo progetto che abbiamo presentato a Veniz a Tréorque quando io ero piccolo vivevo in questa fattoria che era nello stato di Vinceraes a Imores era una fattoria molto grande era una fattoria di 10 km di lunghezza per cui 3 km di larghezza quindi era un territorio molto grande e io mi sentivo mi sentiamo, mi ricordo come se fossi il paradiso era un enorme territorio circondato anche da colline e da montagne e con il 60% del territorio era coperto di foresta tropicale e questa foresta tropicale generava una migliorazione nel territorio una terra nuova eccetera quando io a un certo punto poi a questi 10 anni sono stato insomma ho dovuto lasciare ai Moress per andare a fare il secondo ciclo della scuola secondaria in città poi ho continuato questo percorso da studente fino appunto a la laurea per cominciare il mio lavoro di fotografo e quando sono diventato il fotografo quel 60% di foresta tropicale che c'era nella patente dove ero vissuto da bambino era diventato lo 0,5% e questo si può vedere anche in tutto il mondo in realtà il modo in cui noi stiamo costruendo il mondo contemporaneo porta automaticamente a una distruzione sistematica del pianeta lasciamo dietro di noi il deserto e quindi tornando lì in Brasile dopo quello che vi ho detto dopo il percorso che abbiamo avuto lei ha avuto un'idea che ci è servito sia a me che a lei per riprendere contatto anche con con la vita e lei ha detto perché non ricostruiamo questo paradiso che tu racconti sempre perché era il tuo questa questa fattoria perché non perché non proviamo a ricostruire le condizioni che c'erano prima e quindi abbiamo avviato un progetto che prevedeva di piantare 2 milioni di alberi di più di 300 specie diverse e mano a mano abbiamo cominciato questo progetto abbiamo trovato i fondi per farlo e mano a mano ricostruendo la terra vedendo gli alberi che spuntavano vedendo ritornare le specie animali che popolavano la foresta gli insetti gli uccelli i mammiferi l'acqua che ricominciava a scorrere nella valle pian piano mi è ritornata una grande voglia di fotografare soprattutto di fotografare per condividere il piacere di vedere la natura rinascere e ricrescere e quindi da lì è iniziato il progetto Genesi che per me è un modo appunto di testimoniare la importanza e la bellezza della natura e di condividerlo con tutto il mondo e questo è il soggetto che sta alla casa per me e per me per me per me per me due minuti abbiamo composto un filmato in cui ci sono 140 fotografie che vengono dalla mostra Genesi che sono accompagnate soltanto dalla musica la musica di un compositore un amico nostro che si chiama Jonathan dell'Aes un compositore classico contemporaneo una musica molto bella molto raffinata e questo è una sorta di anteprima che io vorrei offrirvi questa sera alla mostra la mostra che poi appunto aprirà il primo febbraio e poi dopo la proiezione potremo anche continuare le discussioni grazie io volevo intanto fare un applauso a Ledia a Ledia che ha fatto un applauso davvero grazie Ledia per il lavoro che hai fatto ho fatto tempo per fare una domanda a Sebastiano ma è molto più interessante ascoltare lui che le mie domande ci raccontano in questi giorni dove questo mostra insieme a Ledia sono stati costruiti 5 e 7 di mostra che gira in tutto il mondo siamo all'inizio di questo percorso che Ledia ci diceva che andrà avanti fino al 2017 se non sbaglio e fino ad oggi ha raccolto un milione e trecentomila visitatori questo come dire a sottolineare l'enorme successo del lavoro di Sebastiano ma al di là del successo dell'interesse e dell'incredibile attualità di questo tema e quindi volevo chiedere a Sebastiano su qualcosa molto veloce prima di vedere la proiezione da una parte questi otto anni di shooting questi otto anni di lavoro che l'ho portato in tutto il mondo io so che hai visitato anche poi i luoghi che in qualche modo non sono entrati nella selezione quindi in realtà il viaggio è stato molto più lungo è stato un viaggio praticoso anche questo ricco di sofferenza e la seconda è che nella mostra non c'è un'immagine di backstage cioè non si vede mai non si vede mai né Sebastiano né Lelia al lavoro e credo che questo Sebastiano abbia riservato per un'altra diciamo grande opportunità di conoscenza e di diffusione della fotografia con un film che sarà presto presentato in anteprima ma vorrei che ce ne parlasse Sebastiano Ecco posso cominciare a fare queste foto e lui non aveva pensato che on aveva creato una grande presentazione come ti ho detto abbiamo cinque musei di exposizione che ho avuto già venire sono le diciere musee che hanno presentato questa l'exposizione abbiamo praticamente una trenta di musei in attenzione per questa è vero che nelle sette primiere presentazioni abbiamo avuto 1.330.000 persone che hanno venuto vedere queste foto le libro che abbiamo che che ho avuto di che 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 noi abbiamo cominciato questo progetto non abbiamo pensato che esattamente ai termini in cui questo è stato proposto al mondo, in realtà si sono 5 set della mostra che girano in tutto il mondo, la presentazione che aprirà il primo settore in Venezia e la decima in campo internazionale che avviene, ci sono più di 30 musei in attesa di presentare Genesi nel mondo e finora durante le prime 7 esposizioni abbiamo contato 1.320.000 visitatori, sono stati prodotti per tutti una quantità di libri enormi, ma in realtà all'inizio la voglia, l'esiderio che avevo per cominciare questo progetto che avevamo era di voler vedere, di voler andare nel mondo, di voler guardare la bellezza del mondo, tutta la parte del mondo che era ancora intoccata dall'uomo e che era ancora così ancora stata creata. Quando dico noi è perché io e lei appunto siamo spesso dati insieme e abbiamo concepito insieme questo progetto, sono ormai 50 anni di vita insieme e ci siamo fatti questo grande regalo, uno dei più grandi regali che una persona può fare a se stessa è quello che noi ci siamo dati, cioè di andare a vedere il mondo, andarlo a vedere nel modo più genuino possibile, l'abbiamo fatto per 8 anni, ogni reportage durava circa due mesi, qualche volta di più, qualche volta due giorni, qualche giorno di meno, ma per noi fare tutto questo è stata anche una progressiva consapevolezza delle relazioni incredibili che esistono tra noi e il mondo, tra noi e il mondo animale, tra noi e il mondo minerale anche, naturale, quindi l'abbiamo, diciamo, progressivamente capito dopo tutta questa esperienza che bisognava mostrare tutto ciò in un altro modo e quindi abbiamo pensato a una mostra che potesse assicurare la più grande partecipazione possibile. L'abbiamo fatto insieme al nostro editore un libro importantissimo, libro che è un grosso libro, 300 pagine di grande formato che per essere venduto a 49 euro, che è un prezzo relativamente buon mercato, sta avendo il successo che speravamo che potesse avere, ma il mio obiettivo, il nostro obiettivo era che appunto la gente potesse apprezzare vedendo la mostra e vedendo le fotografie del libro come tutto ciò potesse essere parte del piacere che noi abbiamo vissuto vedendo tutto quello che abbiamo visto e che quindi questo fosse un aiuto, una possibilità in più per le persone che vedendo la mostra progressivamente capiscano che questa bellezza che io ho raccontato attraverso le mie fotografie possa portare a un consenso di rispetto maggiore di quanto siamo in credo di aver fatto fin qui nei confronti della natura, un rispetto che potrebbe portare a un desiderio di protezione nei confronti della natura e anche di ricostruzione. Questo forse è molto pretenzioso dirlo prima che le persone vedano la mostra, ma io credo di poterlo dire perché ho sentito poi nei commenti delle persone che sono venute a vedere la mostra come questo sguardo che abbiamo cercato di condividere con i visitatori della mostra poi porti consapevolezza e armonia anche dei singoli visitatori. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 bene. a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. a tutti. su. a tutti. a tutti.